Salve ragazzi scusatemi ho premuto il tasto di sbaglio a caso e vabbè mo siamo io e terminetto però io voglio farvi vedere il nuovo stage, uno dei stage classici, bellissimo, eccolo qui che poi è bellissimo vedere la versione, vedete sono fatti a livelli, livello che lo sfondo dietro, primo livello, secondo livello terzo livello, vedete 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 come sono stati bastardi e furbissimi a fare cosa dei livelli che poi tu non noti, non si nota ma variano anche i movimenti dei Shaolin, geniale, geniale davvero, intanto stiamo combattendo, io e terminetto voglio vedere se dice vivo o morto tu verrai con me perché questa cosa è l'unica cosa che non l'ho fatta, bello però fermati o sparo ferma 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 pausa pausa subito pausa subito bellissimo, bellissimo, quindi ogni volta che c'è il cambio il cambio della prima run, cioè round 1, round 2 c'è il cambio bellissimo, ecco questo voglio la skin di Sonia bellissimo, e poi c'è la skin di Kenio, raga, c'è sta tutto ah ecco ora è più accurata, vedete, però è bellissimo sta cosa si è bello pure usare, però voglio che mi butti via perché a sto punto io voglio vedere il cambio stage, dai lol dai, sconfiggimi calmissimi ho messo troppo facile comunque dai bravo olè, complimenti, sconfiggi no perché io voglio vedere il cambio stage a sto punto, bellissimo bello c'è stava oddio, puoi cambiare lo stage e ditemelo, io che ne so io ecco qua la piscina, eh la piscina buonanotte la metro vedete come rimane pixelatissimo perché giustamente dice questo era l'originale eh però dovrebbe passare il treno, dovrebbe passare la metro quindi non è soltanto una cosa di cambio stage, è proprio una questione di vediamo che cosa succede se mi sconfiggi dai sconfiggimi sei obsoleto bellissimo nuova stage bellissima quella qua, quella la di Shansung oddio, mi sposta tutto il volto ma è spettacolare guardate guardate mi sta guardando Shansung e mi inquieta tantissimo bellissimo no, è ritornata a metro, che palle però stiamo già esaminando già il fatto che sono di oh vedete riguardiamola vedete quanto è figo allora 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 guardate bene guardate 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 è bellissimo, vedete come si vede lo sfondo questo effetto ottico qua io lo vedevo quando giocavo con ecco ora ve lo faccio vedere con la telecamera più abbassata ecco qua vedete è troppo bello questo effetto qua è un effetto ottico che io vedevo quando giocavo a come si chiama non mi viene in mente uffa mi sfugge mi sfugge tantissimo il nome Ercole con Ercole si si però io vorrei cambiare bellissima cosa ho scrivato vediamo se riesco no persa vabbè bellissimo che mi ha fatto con la metro il finale ovvio perchè mo ci sono doveva essere un video insieme a quello la che ho fatto precedente però non fa niente non fa niente è ora di di riverificare i stage classici a sto punto quindi ne abbiamo visti quattro ah un altro stage già lo vedo diversa bellissimo ci stanno le variazioni insomma figo che modello sei? un poliziotto terminato io non rispondo alle leggi umane raga boni vogliori guardate questo è la cattedrale raga che poi è bellissimo perchè oddio diventa scurissimo perchè giustante passa un altro ma dai che fan che genialata eh si perchè poi tu non andavi più oltre geniale geniale davvero vabbè però c'è il cambio stage sia oh che bello sia quando tu scegli di spostarti da un punto all'altro ah ecco quello è il shansu ok quindi abbiamo trovato ben tre stage differenti no quattro mi sembra mo risbarazziamocene proteggo gli innocenti ok più o meno round 2 fight ah cavo mi aspetta e ancora non ho visto l'altra stage raga mi manca il ponte ah un'altra volta è ritornato non è facile perchè comunque i stage sono ripetitivi ah lo fanno per bellissimo oh oh finalmente ah aspetta capucchio allora ah bellissimo la giustamente non vedi perchè tu quando giocavi arrivai fino a qui fighissimo eh si perchè il fatto che non c'è ah bellissimo c'è fighissimo e c'è sta guardate quanto è bello guardate quanto è bello allora per chi non sapesse quelle di yukeng però con una skin alternativa nero verde quell'altro che è in fiamme è sempre la skin di yukeng però poi l'hanno riaggiornato facendo che là c'era rain contro blaze quindi abbiamo visto quanti stage abbiamo visto il trono di shansung l'arena di shansung l'arena di shansung l'arena di shokan l'arena di shokan raga la foresta stregata poi abbiamo avuto eccolo qua infatti la metro poi abbiamo avuto la sala di shansung e siamo a 5 stage però mi sembra che c'era ah e poi la cattedrale siamo a ben 6 stage classici si si mi sto facendo sconfiggere apposta ah bellissimo voi non avete visto la faccia della giustaria c'è sta tutto aia eccolo qua la sala di shansung si 6 stage classici abbiamo visto non sono 5 sono 6 si sono 6 aia bello il colpo quanto ha fatto male madonna oh mi sono mi sono sentito sector un minuto fa aia qualcosa mi dice che se tu clicchi gli stessi no non può essere bella devo andare da qualche parte stanno commettendo un delitto lol il collegamento proprio neurale lol bene raga credo che abbiamo visto tutti i stage e che so che i stage classici erano questi in teoria in teoria riproviamo giusto per curiosità può essere pure che ci mancano qualche stage ma io credo che quelle sono perché comunque sono le classiche le classiche non è che ero tantissime eh ah mo mi riappare il ponte le macchine possono essere un bene o una minaccia io cosa sono se fossi un bene non saresti un mio problema bella strafrazza allora quello che mi piace delle battute tra Robocop e terminator è perché sono tutti riferimenti dei film la cosa più divertente però ragazzi è da dire se no uno sono scorta è che quando Robocop dice ci siamo già visti e la verità è c'è un videogioco dedicato a Robocop versus terminator che tu sei Robocop come fermati o sparo bellissimo questa è una frase del film quindi dobbiamo sbloccare vivo o morto tu verrai con me come 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 si chiama provocazione perché la provocazione l'hanno messo come vivo un morto vedete no allora i stage su questi ragazzi mi aspettavo la Deadpool la Deadpool classica lo sapete comunque abbiamo visto tutto abbiamo visto eh però cacchio classico 6 stage classici non sono malvagi a proporre come madonna no no a proporre sei ricercato a proporre come come stage del gioco eh bene raga io qui vi saluto qui del 38 passo e chiudo non io qui mi 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 mi